Infissi in pvc per verande. Ciao sono William Misaki di Infissi Misaki dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Misaki. Gli infissi in pvc è possibile utilizzarli anche per la chiusura delle verande. È una soluzione che non consiglio particolarmente per un motivo particolare, è la dimensione. È un grande limite del serramento in pvc che non ha un grande dimensionamento statico, quindi non ha una grande forza nelle dimensioni grandi. E una veranda è difficile che sia piccolina, mi immagino che abbia una certa altezza più alta di una finestra o di una porta finestra e mi immagino che abbia anche una determinata larghezza. Quindi avrà delle dimensioni che faranno in modo che questo pvc debba dilatare molto sia in larghezza che in altezza e dilatandosi potrebbe anche incurvarsi. Inoltre una veranda probabilmente non avrà nessun riparo esterno, quindi la veranda stessa sarà esposta a sole, aria, acqua e vento. Se magari è anche di un colore diverso dal bianco è qualcosa che darà ancora più fastidio al pvc come materiale stesso perché è uno dei suoi limiti. Per questi motivi non ti posso consigliare, almeno in casi veramente particolari, una veranda costruita con serramenti in pvc. Se vuoi essere consigliato nella scelta, nel tipo di veranda, il tipo di colore, in funzione un po' delle dimensioni, le tue esigenze e l'esposizione, perché conta anche molto se questa veranda è esposta a sud piuttosto che a nord, ti posso aiutare con un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi. Se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata, dove se sei lontano dalla Bisacchi, quindi non potrò venderti i serramenti direttamente, ti potrò dare dei consigli disinteressati. Ciao e al prossimo video!